È un giorno importantissimo, rappresenta la svolta per la storia italiana, la prima donna di destra oltretutto che sale al Colle come Presidente del Consiglio molto probabilmente. Per cui sì, è vero, è una vittoria importantissima, è una vittoria importantissima per la destra, è un momento di svolta, è un momento di riscatto e di orgoglio e soprattutto di grande dignità per il nostro Paese. Durante questa campagna elettorale dai toni spesso molto fuori e molto duri in realtà poi ha fatto emergere quella che è la vera anima di questa destra completamente differente da ciò che si è cercato di ricordare ma ovviamente gli italiani non sono cascati in questa trappola e hanno capito quali sono i veri valori della destra e qual è il programma che si attuerà per aiutare e ridare dignità a tutti gli italiani. Grazie Grazie